La sontosa cornice del castello Svevo di Cosenza ospiterà fino al 7 gennaio 2016 le opere di Giuseppe Gallo, uno degli artisti cosentini più apprezzati al mondo. Questa è la prima mostra che facciamo qui al castello, una mostra importante, inauguriamo un ciclo di mostre con un artista di fama mondiale che è Giuseppe Gallo. Sono opere che spero avremo anche nella nostra città a breve negli spazi aperti perché intendiamo fare in modo che alcune sculture di Gallo ci siano anche nella piazza principale che è Piazza Bilotti e quindi dopo questa mostra con Gallo stiamo appunto studiando quale potrà essere una collocazione giusta per una sua opera all'interno della città. Gli ospiti presenti al vernissage di inaugurazione hanno avuto modo di apprezzare oltre alle splendide opere di Giuseppe Gallo anche il sapiente allestimento che ha coinvolto gli spazi interni ed esterni del castello Svevo. La mostra è stata pensata insieme all'artista, ogni sala è stata in qualche modo così evidenziata attraverso quello che poteva essere il linguaggio più appropriato anche secondo appunto degli spazi stessi, le luci e quant'altro. Questa mostra nasce in realtà da molte delle opere che sono già state realizzate da Giuseppe Gallo nel corso degli ultimi 20-30 anni, quindi in particolare qui sono stati realizzati alcuni disegni, circa 20-25 disegni espressamente per questa mostra.